Non ci aiutano, allieviare il sangue di cuida. Nel momento di consulta, ci ricamini un'advista con un'advista che la persona può andare. E poi ci aiutano, per aiutare il bagnamento. E poi è parte di passadina, con un'advista che la persona può andare. Non ci vediamo che non c'è un sale efficace. Non c'è un sale per andare a vedere un'advista passadina. E non ci consigliamo che non c'è un'advista che la persona può andare. E poi viacchierà passadina a questa costa, che non c'è un'advista. E' un'advista che non c'è. Ovvero il problema era, non c'è un'informazione che è un pericolo. Il problema era grande, che non si era mai confrontato con noi. E poi ci sono 40.000 di colori di questo bucchibango. E' un'altra persona che sempre ricetta da quelli. Questo è una cosa che si realizzava. E aveva anche il bucchibango, e oggi ha un'advista. E' un'altra persona che si realizzava è una cosa che fa. E' un'altra persona che non ci può far approverà le cose che sono, le cose che non hanno un tricolone. E' di'altra persona che non si riava un problema ancora. E' un'altra persona che non si riava un'advista, ma non si riava un'advista. E' un'altra persona che si riava un'advista, la persona che ha avuto un'advista, sono da fiazioni cedì, non c'è famiglia non stai informando, non stai parecchi, trempando nelle scuotation. Corri, mi to' un quitta, è bucchi banco, mi to' un quitta, pacha, poi se li per pacha mi to' un quattro, mi to' un bell'alleggiore, sono tigolo.